Ma buongiorno amici, come state? Bentornati sul canale. Oggi video sul microblading e sul mio aggiornamento tatuaggio. Voi sapete che ho il tatuaggio delle sopracciglia da 100 miliardi di anni perché le mie sopracciglia sono un po' schfigaz, nel senso che questo sopracciglio è sempre stato abbastanza valido mentre questo qui era di natura molto più basso e infatti i peletti che mi erano rimasti pochi erano la parte superiore del sopracciglio, quindi era praticamente questa parte qui. Quindi immaginatevi, veramente era molto basso e mi cambiava completamente lo sguardo quindi un giorno dopo mille miliardi di spinzettamenti, dopo che dopo anni di attesa i miei peli non erano più ricresciuti ho deciso di fare il tatuaggio alle sopracciglia. Mi sono rivolta ad una persona che mi aveva fatto un tatuaggio orribile poi mi sono rivolta ad un'altra persona che me l'ha corretto però appunto con la tecnica old school diciamolo così perché il microblading è la nuova era del tatuaggio alle sopracciglia. Il tatuaggio che avevo prima, lo conoscete, ho fatto mille miliardi di video mille miliardi no però tanti video al riguardo e insomma basta andare indietro di qualche video per vedere il mio tatuaggio precedente. Ho aspettato svariati anni perché volevo che scaricasse il più possibile per provare appunto il microblading che è questa nuova tecnica, non è poi così tanto nuova però va di moda fra virgolette adesso e praticamente è una tecnica pelo per pelo con un risultato super naturale. Se avete già dei peli vi fa un effetto pazzesco perché non sembra un tatuaggio, non sembra che abbiate fatto niente è praticamente un infoltimento mentre appunto per me, io ero curiosa perché ripeto questo sopracciglio di peli ne ha questo qua è da rifare completamente. Mi sono rivolta a quella che io reputo la top in Italia, è fantastica ed è Ilenia Camareri lo sapete perché mi seguite su Instagram, lo spero, e dopo averla corteggiata per mille miliardi di mesi ho deciso di contattarla e dirle appunto siccome tu sei il genio del microblading ti prego sistemami lo sguardo e così abbiamo preso appuntamento e siamo passate ai fatti. Vi lascio le stories che ho fatto. Raga, sono un po' stravolta e sono ancora lucida ovviamente ma... Cioè è un risultato della madonna, Ilenia sei una maga, una maga! Quindi Ilenia prima con una matita ha fatto pelo per pelo le sopracciglia, ha fatto lo sketch delle mie sopracciglia e lei mi ha detto senti facciamole un filino più grosse, non tanto però un filino più grosse, fidati di me e io mi sono fidata perché... Cioè basta guardare il suo profilo ragazzi, basta guardare il suo profilo e vedere che capolavori realizza. Quindi gli ho detto fai tu disegnamele e poi vediamo. Mi ha fatto un disegno che appena mi sono guardato ho detto oddio sono stupenda e ti prego cioè famole esattamente così. Poi mi ha cominciato a tatuare e utilizza una macchina proprio da tatuaggi e fa questo tatuaggio pelo per pelo. Dopodiché, dopo che la pelle è un po' abrasa dalla prima passata fra virgolette di tatuaggio, applica una pomata un po' anestetizzante, la lascia agire e poi finisce il tatuaggio e voi sentirete meno male. A livello di dolore ragazzi, cioè non è un tatuaggio normale come quelli che vi fate sul corpo e che vanno molto più in profondità. È fastidioso, secondo me non è particolarmente doloroso, cioè è fastidioso forse però è leggermente sopportabile e soprattutto dopo l'effetto dell'anestetico leggero è ancora migliore. L'unica cosa non vi spaventate perché in certe zone, in certe aree è proprio automatico che vi lacrimino gli occhi e che vi venga da starnutire. Anche a me è successo, ho detto aspetta Ilenia e lei me l'aveva detto sì ok starnuto, quindi non vi preoccupate se fate microblading o il tatuaggio, vi capita di lacrimare o di starnutire, bloccate la tatuatrice o il tatuatore e ditele mi viene da starnutire. Dopodiché ragazzi, fatto il tatuaggio, Ilenia mi ha spiegato tutto quello che dovevo e che non dovevo fare. Il tatuaggio ci mette 30 giorni a guarire completamente o meglio dopo 30 giorni avrete il risultato super 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 definitivo. Io adesso sono, nel momento in cui registro questo video, è passata una settimana, ci mette più o meno 10 giorni a guarire completamente, il primo giorno lo lasciate stare e lo lavate bene. Io l'ho fatto tipo di mercoledì, il giovedì sera ho cominciato a mettere una pomata, potete utilizzare il Bepanthenol, io uso Tatulicious che è una pomata fantastica, sempre con pantenolo dentro, però è meno sticky, è meno fastidiosa ecco del Bepanthenol, io la adoro e questo aiuta il processo di guarigione, lo mettete anche nei giorni successivi, vi farà un po' di crosticina, anche lì non dovete andarvele a grattare, le dovete lasciare stare e le crosticine andranno via. Dopodiché, e questa è più o meno la fase in cui sono adesso, guardandomi bene sembra che ci sia una leggera patina bianca, che il tatuaggio sembri già scarico, ma è semplicemente uno strato di pelle che si sta rigenerando sopra il tatuaggio, anche quello strato fra virgolette un po' diciamo biancastro, ma non è che è biancastro, andrà via e il tatuaggio, il colore riemergerà e appunto come vi dicevo prima il risultato definitivo lo avrete dopo 30 giorni. Nel frattempo, per le prime due settimane, non posso ovviamente neanche truccare le sopracciglia, quindi niente matita, niente di niente, a parte che non c'è bisogno, che bello! Anche con il fondotinta devi stare attenta a non andarci sopra, non sto facendo trucchi super pandemonium e super intensi perché anche a livello di struccaggio, insomma, non devi assolutamente passare sopra alle sopracciglia, attenta con il tonico, attenta con le creme, il clarisonic in questa zona è bandito, finché non guariscono. Io non pensavo che avrei raggiunto un risultato del genere, sono felicissima ragazzi perché sembrano sopracciglie, sopracciglie? Sembrano sopracciglia pelose, pelose! E qua, ripeto, non c'è niente, capito? Niente di peloso, però sembra! Guardate, raga! Cioè, spero che si riesca a capire un attimino e ripeto, è ancora in fase di guarigione, lo dobbiamo lasciare stare e fra appunto un mesetto vedrò il risultato definitivo, ma io sono già proprio sulla luna, è un altro mondo rispetto a prima, le amo, le amo! Dopo qualche mese si fa un ritocco, infatti Lenia me l'ha fissato a gennaio e faremo un ritocco alle sopracciglia, dopodiché il tatuaggio dura un anno in genere, se anche ben mantenuto, insomma, ovviamente se andate al mare, protezione solare, anche un pochino sul tatuaggio per evitare che sbiadisca prima, questa è la normale routine, vero ragazzi? Perché la protezione solare ce la mettiamo in ogni caso. Come costi? Allora ragazzi, Lenia chiede 500 euro per il tatuaggio alle sopracciglia più i vari ritocchi, se non sbaglio il ritocco costa 150 e la ribattitura, fra virgolette, annuale 250. In ogni caso io vi invito per domande specifiche, domande tecniche, se volete farvi tatuare da Lenia, se volete info su dove tatua, perché tatua a Forlì, a Padova, a Milano e forse anche in qualche altra città, quindi insomma, per avere tutte le info dei prezzi chiedete a lei come contattare Lenia, io l'ho contattata, oddio, contattata su Instagram, ha un account stupendo, come vi ho fatto vedere prima, la contattate e mandate un messaggino su Instagram e lì potete farle tutte le domande del mondo. So ragazzi che 500 euro non sono pochi, però fatemi dire una cosa e qui ve lo dico per esperienza personale, spendete i soldi perché li state spendendo per persone brave e professionali e serie. Io mi sono fatta mettere le mani addosso da persone che reputavo bravissime e che poi bravissime non erano, tipo il mio primo tatuaggio che è stato corretto veramente in tempo zero, è stato fatto da una persona di un certo livello, non so neanche più se opera, quindi non faccio nomi e cose di questo genere perché mi sa che non tatua più, però non era un bel lavoro, era completamente asimmetrico, erano proprio a spaghetto, quindi no, 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 e non l'avevo pagato tantissimo. Perciò onda evitare di trovarvi con dei lavori bruttini, di cui non siete convinti o cose di questo genere, io vi invito veramente a risparmiare dei soldi e poi investirli in qualcosa che sapete per certo che è fatto da paura da una professionista che il risultato si vede e che questa persona appunto riesce a capire la forma del vostro viso, la forma che sta meglio a voi, il colore da utilizzare, insomma, voi spendete questi soldi ma sapete che è la vostra faccia e la vostra faccia è valorizzata e non correte il rischio perché ragazzi io ne sento tantissime di storie e vedendo quello che mi viene raccontato e avendolo provato sulla mia pelle preferisco spendere di più però essere contenta perché ragazzi avere cose brutte sul viso non è bello. Ragazzi io spero tantissimo che questo video vi sia stato utile, mi raccomando nei commenti fatemi tutte le domande e tutte le curiosità che avete insomma scrivetemele nei commenti, se ho le risposte sarò lieta di darvele, ovviamente vi posso parlare della mia esperienza, per tutto il resto io vi rimando a quella gran fregna super top e professionista che è Ilenia. Ok il video adesso è veramente finito, se vi è piaciuto lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale ed azionate la campanellina per non perdere le prossime notifiche dei video entrando così nella Pandemonium Squad Notification Squad, Pandemonium Squad però è bello. Io vi mando un bacio gigante raga e noi ci vediamo alla prossima, ciao!